Francesco Zampano è già vigilia di Pescara Asconi, è una partita importante. Facciamo un passo indietro a qualche mese fa, quella gara dell'andata. Pescara giocò bene per oltre un'ora, poi ci fu un crollo. Nel finale arrivò questa sconfitta. Sì, io l'andata non c'ero, che avevo male. Mi ricordo che avevamo fatto comunque una gran partita i primi minuti, cioè 60 minuti, poi c'è stato un crollo che comunque magari abbiamo sbagliato noi qualcosina. Adesso c'è questa partita importantissima per noi sabato, che sicuramente dobbiamo raccogliere i più punti possibili perché veniamo comunque da due pareggi e una sconfitta, anche se abbiamo giocato delle ottime partite. Quindi comunque col Mistral è sempre parlando bene e aspettiamo sabato per cercare di portare a casa i tre punti. Quattro partite prima dello scontro diretto con il Crotone, quattro partite per cercare di ridurre le distanze dalla formazione calabrese e presentarsi poi all'uscita con grandi ambizioni. Sì, sì, in queste quattro partite noi comunque dobbiamo cercare di preoccuparci del Crotone, dobbiamo pensare a partita dopo partita e cercare di comunque fare queste quattro gare i più punti possibili. Poi Andello uno di sera a Crotone carichi e vogliosi di fare una grande gara. Quasi per assurdo la sconfitta di Cagliari, una sconfitta incredibile per quello che si è visto in campo, ha caricato ancora più l'ambiente, a ritorno dall'isola c'erano tantissimi tifosi all'aeroporto, c'è grande attesa per questa partita con i bianconeri, anche perché è un derby. Sì, sicuramente. Dopo quando siamo tornati da Cagliari è stato comunque bello vedere tanti tifosi dall'aeroporto che comunque ci caricavano e è stato bello anche per noi giocatori, anche se comunque abbiamo perso, giustamente, però è stato molto bello.